Il Catania passa al Simonetta Lamberti, la compagine di Baldini trova il suo secondo successo di fila dopo quello tenuto contro l'Avellino. La cavese di Campilongo è sempre più ultima ed oggi sarebbe retrocessa avendo 12 punti di svantaggio dalla Vibonese. Gli Etnei al diciassettesimo sprecano una palla gol nitida, splendido lancio di Maldonado che vede lo scatto di Russotto e lo serve in profondità. Il numero 7 arriva tu per tu con Kucic e spara una bordata di sinistro di controbalzo. Il portiere avversario riesce a deviare in angolo. Ad inizio riprese il vantaggio dei siciliani sugli sviluppi di un calcio d'angolo schema dei rossazzurri. Dall'Oio riceve e crosta sul secondo palo, si alza in ritardo, la difesa della cavese è giosa. Tutto solo la gira in rete con una botta al volo di sinistro. All'ottantesimo Dall'Oio la chiude, Welbeck recupera palla all'altezza del cerchio di centrocampo. La cavese sbilanciatissima e concede una prateria al calciatore ospite che è arrivato al limite dell'aria. Fa partire un destro secco ad incrociare che non lascia scampo per la seconda volta Kucic. Nel finale c'è solo tempo per l'espulsione. Al 95esimo di mattino Sarrao sfugge al difensore metteriano che è costretto ad abbatterlo per non lasciarlo andare da solo verso la porta. Inevitabile il russo diretto per il centrale Blufonze. Il Catania con la vittoria sarà a quota 49 per la cavese. Il tempo delle ciaccere è finito, servono punti per disputare almeno il play-out. Altrimenti lo spettro della D per Campilongo è dietro l'angolo.